Lo spazio è il nostro futuro, lo spazio è la nostra opportunità, la prossima tappa, la prossima meta, la superficie lunare. In effetti abbiamo celebrato quest'anno i 50 anni dell'allunaggio, ma quello che accade ora è l'uso sistematico delle incredibili, importantissime risorse del nostro satellite, del nostro compagno di viaggio, della Luna. Emozionante, difficile, accattivante, una vera e propria grande avventura che è iniziata, che sta iniziando, di cui l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea e tutti gli attori industriali nazionali sono degli attori protagonisti importantissimi. Oggi Lunar City ci racconta come tutto questo è stato e come tutto questo potrà essere. Oggi Lunar City ci porta in quello che sarà il nostro futuro. Buona visione!